In proverbio dice, fatta la legge, trovato l'inganno. Ci sono norme però che addirittura indicano chiaramente la scappatoia al loro interno. È il caso dell'inserto del PGT di Mortara che prevede la conversione a moschea dell'attuale centro islamico di via Marianini. Per passare da sede di un'associazione culturale, come ora, a luogo di culto, come lo è di fatto da anni, in quanto vi si svolge attività di preghiera, occorre che l'area venga inserita nel piano delle attrezzature religiose. Così ha fatto la giunta di Fratelli d'Italia, indicando in questo elenco l'area di via Marianini, insieme alla Basilica di San Lorenzo, alla Casa Madre delle Suore Pianzoline e all'Abbazia di Sant'Albino, per citarne alcuni, con la differenza che il luogo di culto islamico ha la dicitura di attrezzatura religiosa in previsione. Per passare da in previsione a esistente, occorre stipulare una convenzione con il comune e rispettare alcuni parametri, tra questi avere un parcheggio grande almeno due volte l'area destinata al culto. Il centro islamico di via Marianini, aspirante futura moschea, è indicato nel PGT con una superficie di 160 metri quadri. Occorrerebbero quindi almeno 320 metri quadri di parcheggio e non ci sono. Nella norma però si trova anche la scappatoia. Basta fare una convenzione per mettere a disposizione parcheggi pubblici nel raggio di 500 metri, purché il tasso di utilizzo sia idoneo. In parole povere, a condizione che quei parcheggi non siano già abbondantemente usati per altro. Chi decide se giudicare idonei quei parcheggi e fare la convenzione? L'amministrazione comunale, cioè lo stesso ente che, inserendo l'ipotesi di una moschea nel PGT, ha già manifestato una volontà politica favorevole al progetto. Nell'arco di 500 metri dal centro islamico c'è il parcheggio di via palestro e quello delle scuole. La scappatoia, insomma, ci sarebbe come. Tra chi cerca di contrastare l'eventualità di una moschea a Mortara c'è la Lega, che ha appena depositato un'osservazione proprio sulla questione parcheggi. Quello di via palestro è già ampiamente sfruttato dai residenti, mentre quello della scuola, esattamente nell'orario della preghiera del venerdì, viene usato dai genitori e degli alunni che frequentano le classi da 24 ore a settimana, che escono alle 12.30. Di motivi per indicare un tasso di utilizzo dei parcheggi pubblici troppo alto per metterli anche a disposizione della moschea, quindi ce ne sarebbero, fanno notare dalla Lega. Occorrerà però aspettare per sapere cosa ne pensa l'amministrazione comunale, che è tenuta a rispondere a tutte le osservazioni formulate al PGT.